20 anni dalla strage di Capaci, dalla strage di Via D'Amelio, un giorno che ovviamente sento molto, soprattutto per la mia esperienza di magistrato, ho fatto il magistrato avendo come idoli Borsellino e Falcone. Ieri ho ricordato che il 22 maggio del 92, il giorno prima della strage, consegnai il mio compito gli iscritti al concorso di magistratura nelle mani di Francesca Morvillo, che era presidente della commissione, Vidi Falcone che la venne a prendere all'hotel Ergife di Roma e il giorno dopo le immagini della strage, poi sono diventato amico di Salvatore Borsellino e il fratello di Paolo. Insomma sono momenti fondamentali per ricordare, ma soprattutto perché il nostro cuore e le nostre gambe continuano ad avere linfa nelle loro idee, nel loro coraggio, nella loro passione, nel loro amore per il sud, per Palermo, per debellare le mafie che sono il cancro della democrazia nel nostro paese. Ricordo che però anche vivono le giovani generazioni, ma fa specie vedere quest'albero funzionante. Ma è straordinario vedere ragazzi di vent'anni che quindi non erano nati o che nascevano in quei mesi che conoscono perfettamente che cosa è accaduto a Capaci, a Via da Melo, al Velabro, ai Giorgofi. Quindi evidentemente ci sono persone che hanno raccontato, persone che hanno scritto, giornalisti e scrittori, persone che hanno portato le idee. Bisogna seminare amore, Falcone, Borsellino, gli uomini delle donne e la scorta. Non dimentichiamo Emanuela Loi che morì a Via da Melio, che non si riusciva nemmeno a ricostruire il corpo. C'erano solo brandelli. I ragazzi oggi sono vivi, sono sentinelle della democrazia. Sono non la nostra speranza, ma la nostra certezza che le mafie, come diceva Falcone, sono un fatto umano. Allora iniziano una fine, la loro fine è cominciata da tempo. Dobbiamo soprattutto scardinare la mafia che c'è nello Stato. Quella è la più pericolosa, ma noi lottiamo soprattutto per scardinare quel tipo di cancro prima che diventi metastasi.